musica 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 ok da ne andiamo merda a tutti varile musica ecco adesso e risultato e musica è giusto va vado la politica Sì, tutto sto spiando le dundine. Madonna. Vieni qua, oh! Perché c'è sto cordo? Oh, vieni qui! Over here. Oh wow. Andiamo, Nick. Oh, oh, oddio! È il possessato! Eh, che cazzo! Ah, lì! Che cazzo! Oh, cazzo! Bravo! Ehi, perché mai ti chiusi? Oh! 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 Eh, non è. Guarda che c'è una porta qui. Ah! Aspetta di porco! No! Oh! No! Mi stai picchiando. Non si fa! Non andai a picchiare! Oh, no! Oh! No, mi hai picchiato! Fermo! Ci deve essere... Qualche cosa. Ci rimane un'unica soluzione. Qua. Mi? È vero, guarda lì! Vieni, Nick! Nick! Dietro! qui lo scheletro scontato sta arrivando per te mi sono bloccato devo usare le maniere corte no, ce l'abbiamo fatta oh, peccato, peccato voi venite qui? c'è qualcosa che non va qui oh merda oh merda, guarda, guarda, guarda andiamo Nick, dove sei? andiamo eccomi no, puttana it's crowbar time ma niente una sedia oh no aspetta che sono morto oggi e guarda e guarda oh pistol ammo yeah venite qui cos'è? c'era una cosa lì shit sto crusha che cazzo oh shit oh oh merda un tizio carbonizzato half life ho preso ho preso munizioni oh yeah bitches ora vado a rifugire la pompa mazzo tutti oh oh kit medico vedo una fessura qui oh 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 ahah nan 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 oh che cazzo mi sto facendo bloccare? tornate indietro ciazzo io lo sono bloccato ok c'è una sola soluzione no non lo farò no dove si va ora aspetta nick eh non mi andrei ah qui no e qui cosa c'è? oddio spine ho capito ho capito ho capito ho capito no non vorrei fare quello che penso io surprise motherfucker sto ricaricando sto ricaricando no non funziona andiamo dove andre where are you? sto laggando aspetta oddio si sono arrivato nick vieni qui questa volta non starmi vicino però eh non starmi vicino ci bugghiamo altrimenti oddio oh che cazzo aspetta stiamo arrivando oddio cos'è quello? attacca attacca eh ne 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 nene morda 3 minerals 3 minerals si 3 minerals 2 minerals oh no oh no muro il fortale di qua oh cazzo Cazzo! Andiamo! Un Handcrab! Eh si ma ci vuole tanto che puoi turnare! Si! Levatevi! Si ma non... Ecco fatto! Cazzo! Checkpoint! Ti ho sbloccato in un checkpoint! Siamo tornati al punto di prima! Ma dove c'è? Un codice! Oh cazzo! Cosa? Merda! C'erano uno di quei affarini che ti tirano su... Oh! Si sono rotte le scale! Mentre andavo ci sono rotte le scale! Dai! No! Ah! Che cazzo! Dai dai! Commetto! 200 punti! Ma io... Più che altro ho corso! C'è corrido davanti più difficile! Oh! Levalo! Levalo! Eh! Levalo! 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 Aia! Hanno chiuso la porta! Lostardi! Cos'è questo? SPACCA NIK! Bravo! Una me... Oh! SPACCA NIK! No, non si è SPACCA! Aspettiamo di qua! Uccidere! non c'è neanche è un traditore il generatore guarda lo devo attaccare c'è una boss battle dove si va ora? si è finito e lo stacco il generatore attento il generatore è assassino guardalo no no arrivo è una macchina oh shit hai un'invasione merda oh si è aperta la porta del codice si è aperta io sono alla stanza del codice aspetta che arrivo torno indietro ma che cazzo stai facendo? mi coi mi coi mi coi merda merda sto allaccando ok basta andiamo alla stanza del codice ce l'ho già ripulito c'era uno zombie c'era anche un'edica guarda si lo so vieni qui bam guardate vai apre vado prima io a te attento sto fitti shit ok andre sali sopra verso la libertà stavo laggando stavo laggando stavo laggando stavo laggando no oh merda nick atto crab atto crab oh merda ancora oooh buuuu bella bella b**ch ahi sta la porta aspetta Fai passare Bravo Gabbati Oh cazzo Vieni dai andiamo Spacca Spacca Forza brutta No, qua c'è un generatore Premiamo i pulsanti Raga, dietro Dietro dove? Ma dove cazzo siete voi? Oh ma dove cazzo Io mi sono perso alla stanza del generatore Questo gas potrebbe essere utile Oh merda Ah ci serve un altro due tanniche Vieni Nick qui Qui Nick Aspetta Ci serve l'ultima tannica Dov'è? Ehi man Non sei giù lì Ehi man Ehi Ah merda Merda Stai con la porta Dietro Sono chiuso No Dove stai? Dietro Ho preso la porta Ero chiuso dentro Con i mostri Mi stavano uccidendo Ho caduto Oh cazzo È caduto È caduto È caduto Un headcrab No, invece no Vieni Vieni un po' Andiamo Oh shit Ecco Muori Muori Aia Chi cazzo mi ha colpito Tu Io sto qui Ancora Madonna È pieno Sì Condotto da reazione Oh merda Guarda Ecco Muori Ok torniamo al generatore Aspetta c'è un condotto Eh c'è anche lì un condotto Sì ma qui è No aspetta coltriamo l'altro Ok vado No no Ah che cazzo mi ha colpito Generatore Vieni Voglio molto eh Ah Ok una volta Dai prima Andrea Dai Vai Move Vai 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 cazzo Che cazzo Vai Vai madonna Eh mi sta uccidendo adesso però eh Torniamo al generatore Dai Tornate indietro di qua Eh prima io Eh Vai cuz Vai vai No uh Vai Aprile Sì Adobe Che cazzo Sì Volevi ghigliattinare Nick vero? Cazzo Eh anche a me Shit mi sono utilizzato Ok sono Ci sono Merda Merda Ricarico Quanti tono Qui c'è solo una cosa da fare No c'è solo C'è solo una cosa da fare Nick Guardami Andre Andre C'è solo una cosa da fare Andre Fai the power of the force No perchè faccio i salti della force Double kill No è finito No 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 Grazie a tutti.